sull'onda del burbore, questo programma che vi travolge e vi coinvolge Ivan Fiore, se ti dicessi Don Gelato, cosa risponderesti? Sto facendo una trasmissione in diretta, ecco Don Gelato, guarda, mi cogli impreparato Don Gelato e il gelato con i baffi Grazie Ivan, ci hai convinti? In bocca al lupo Crepi, ah! Crepe, crepe, gelato, le crepe gelato più buone di Palermo, ciao! Scupito, qual è il miglior frappé di Palermo? Quello di Don Gelato, il gelato coi baffi La radio, sconti il disco, sconti la oggi, sconti Oh, fermi, 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 ragazzi, si può avere un gelato migliore? Tre terzi, cosa intendete per un gelato migliore? Don Gelato, il gelato coi baffi Morgane, se vi dicessi gelato artigianale siciliano, cosa rispondereste? Don Gelato, un gelato coi baffi Anch'io compro la brioche da Don Gelato Ma con o senza panna? No, ovviamente senza panna No, forse non ci siamo capiti Il gelato ci vuole la panna Ci vediamo da Don Gelato 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 Com'è? Ci vediamo da Don Gelato Ci vediamo da Don Gelato Ci vediamo di Don Gelato Grazie a tutti